Un nuovo infopoint al servizio dei turisti arriva all'interno dell'aeroporto di Pescara con un ruolo fondamentale nell'accoglienza turistica. Un punto di informazione, di accoglienza, di scambio ma anche una casa aperta a tutti e al territorio, come sottolinea l'assessore al turismo Giacomo Cuzzi. È sicuramente un punto, una vetrina per promuovere Pescara ma tutto il territorio provinciale e regionale in un'azione coordinata. Noi scriveremo anche ai sindaci e a rotazione si potrà venire qui all'interno di questo spazio a promuovere il proprio territorio. Sicuramente sarà un punto in cui i passeggeri potranno informarsi sulla città prima di godere delle nostre bellezze, dei servizi e delle tante attività che abbiamo programmato in occasione delle festività natalizie, non solo perché veniamo da una stagione davvero straordinaria. Siamo passati dal 2015 al 2017 da 188 mila presenze turistiche alle oltre 250 mila, un dato ancora in crescita e questo ci fa continuare ad investire in maniera significativa su quella che è la funzione turistica della città. La soddisfazione per questo nuovo punto di riferimento è espressa dal presidente della saga Enrico Paolini. Oggi abbiamo questo centro informazioni in una posizione eccezionale tra le partenze e gli arrivi nuovi ed è in grado di dare non soltanto i biglietti dei concerti, le informazioni sui concerti, sui beni culturali, sui prodotti turistici ma addirittura con l'abbinamento del polo in oltre che sta qui dentro, di vendere biglietti di tram e di autobus per i servizi, quindi non ci sarà passeggero, turista o straniero che non dovrà passare qui e chiedere qualcosa o per fare un biglietto o per chiedere un evento culturale o turistico e questo aiuterà Pescara, aiuterà l'Abruzzo, aiuterà l'aeroporto a essere quello che deve essere, cioè l'asset fondamentale della promozione turistica della nostra regione. Grazie a tutti.